Grazie a voi, buongiorno. Grazie a voi, c'è a casa. Dove va l'esercito? Ho un forte dolore alla schiena. Non è possibile, prenda pure appuntamento con la mia infermiera. L'ho preso l'appuntamento con l'infermiera. Ci siamo visti ieri sera, siamo andati a cena, abbiamo passato tutta la notte insieme, però il dolore ce l'ho sempre.